21 milioni di euro per il nuovo ponte buriano in provincia di Arezzo che consentirà di migliorare la viabilità dell'aria e di tutelare lo storico ponte raffigurato nella gioconda di Leonardo da Vinci. L'opera è stata presentata dal presidente Eugenio Gianni assieme all'assessore alla mobilità e infrastrutture della regione toscana e al presidente della provincia di Arezzo. I finanziamenti rientrano nel pacchetto di investimenti del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027. Il metodo che abbiamo usato per la distribuzione delle risorse, che sono risorse puramente regionali, quelle del Fondo di sviluppo e coesione, che avevano come caratteristica nella modalità con cui quest'anno sono state distribuite e impostate per i prossimi cinque anni un accordo di programma con lo Stato, di visionare un'opera, e lo abbiamo fatto per le varie province, ma in questo caso Arezzo ha dimostrato una marcia in più perché nel visionare un'opera che avesse un carattere di interesse regionale tale da poter coinvolgere sia l'opinione, l'indirizzo dei membri di maggioranza come di opposizione, centro-destra come centro-sinistra. I tempi di realizzazione previsti sono di 28 mesi dalla data di inizio lavori. Attualmente è in corso la conferenza dei servizi per la pronuncia sul progetto definitivo dell'opera. Si tratterà di ristaurare e valorizzare il ponte storico di Buriano, quindi un progetto complessivo, non solo una nuova infrastruttura che migliorerà la viabilità, ma il recupero di uno straordinario bene culturale. Sì, credo che sia una grande notizia non solo per il territorio provinciale, dunque la provincia di Arezzo, ma per tutta la regione toscana, anzi vorrei dire di più perché lì accanto a quel ponte che faremo, il ponte nuovo definitivo, c'è il ponte Buriano, quello disegnato da Leonardo da Vinci. Dunque credo che ci sia un'immagine forte dell'Arno, il fiume che caratterizza più di tutti la nostra regione toscana e questo ponte che verrà costruito nei prossimi anni, dove la progettazione, ricordo è stata fatta da una società spagnola, prevede proprio che il ponte sia molto lontano da quello di Ponte Buriano e che anche da un punto di vista paesaggistico si possa mimetizzare con il contesto, ricordo che è un'area da un punto di vista dell'habitat molto importante.